è un piacere conoscervi è davvero straordinario ma sarà tutto più chiaro ora che vi dirò qual è il mio ruolo sono la dottoressa Haley Staple e sono una psichiatra concentro il mio lavoro su un particolare tipo di manie di grandezza sono specializzata in quegli individui che sono convinti di essere supereroi buon per lei voi tre vi siete persuasi di avere doti straordinarie come i personaggi di un fumetto David Dunn anni fa è stato l'unico sopravvissuto a un disastro ferroviario pensa di avere superpoteri lo sento devo toccarli mi chiamo Patricia ci sono indubbiamente una ventina di identità io sono Mary Reynolds per favore signora ti abbiamo fregato che coesistono nel suo corpo la bestia arriva da un momento all'altro per voi ma quello che metto in dubbio è la vostra convinzione che siate in qualche modo sovrumani eppure è così le mie ossa si spezzano facilmente ho subito 94 fratture ma un quoziente intellettivo straordinario questo non è un fumetto questo è il mondo reale no dai eppure alcuni di noi non muoiono con i proiettili alcuni di noi possono piegare l'acciaio aspetto il momento in cui il mondo vedrà che esistiamo posso incontrare la bestia spero per il tuo bene che tu possa piacere sembra che i cattivi stiano facendo squadra tanta gente morirà non farlo voi siete pronti come dobbiamo chiamarla nome mister cognome class